Una nuova auto per i volontari Anteas di Lecco, grazie alla generosità di numerosi sponsor, l'associazione legata alla CISL, che aiuta decine di anziani nelle commissioni quotidiane con servizi di trasporto, implementa il suo parco mezzi. Diciamo che siamo qui nella Casa della Solidarietà, dove la solidarietà si rappresenta tutti i giorni. I nostri volontari, con questi mezzi, danno un aiuto alla comunità, alle persone fragili e la PMG, che ci ha donato questa macchina, con gli sponsor dei cittadini che a loro volto hanno una sensibilità grande e capiscono i bisogni della nostra cittadinanza. Non è la prima volta, lo fanno e noi dobbiamo ringraziarli ogni volta per la loro attenzione alle persone. Diciamo la solidarietà delle ditte, che aiuta la solidarietà dei volontari e i volontari che aiutano la cittadinanza fragile. Questa vettura, che è il numero 13 dei nostri automezzi, va a sostituirne una che ormai è andata in disuso per i troppi chilometri. Per cui è proprio necessaria, per tutti i servizi non ne bastano mai. Le richieste sono sempre più numerose, perché in effetti, soprattutto in questo mese, dove magari le persone sono anche assenti, ma sempre di più abbiamo richieste di persone fragili che quindi o perché i figli sono lontani o perché stanno lavorando hanno bisogno proprio di qualcuno che li supporti nelle loro necessità.